Stadio Adriatico Sold Out, tutto esaurito, oltre 20.000 spettatori, semplicemente meraviglioso, qualcosa di pazzesco. Quattro anni fa, 26 maggio 2019, col Verona, semifinale per la promozione in A, poco più di 11.000 spettatori, malgrado l'ottimo cammino targato Pilon. La risposta è effetto Zeman, è stato dirompente, non ci sono dubbi. Poi la squadra, con il suo atteggiamento e le sue prestazioni in campo, naturalmente dopo il 2-2 del match di andata, la qualificazione è tutta da conquistare, il monito del Boemo. La squadra non può sentirsi superiore se abbiamo pareggiato, se vinceva si poteva dire abbiamo vantaggio, ma oggi vantaggio non c'è, ci hanno messo in difficoltà a Foggia, e quindi sanno che è difficile. Ora il ritorno davanti a 20.000 cuore biancazzurri. In caso di parità al novantesimo, con qualsiasi risultato, i gol di trasferta non valgono doppio, supplementari e eventualmente calci di rigore. Tornano a disposizione Brosco, Palmiero e Milani, imbarazzo della scelta, tutti abili. Il probabile 11, Pizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Raffia, Palmiero e Craia, in attacco Lex Merola e delle Monache, a supporto di Facundo Lescano. Di fatto la formazione tipo, comunque quella schierata nelle partite che hanno preceduto la sfida dello Zaccheria. Foggia privo degli squalificati, Contec e Dinoia. Altresì fuori, Nobile, Beretta e Oger. In compenso Rossi ha recuperato Frigerio, che però potrebbe partire dalla panchina. 3-5-2, possibile 11, dal masso tre pali, in difesa Leo, il pescherese di Pasquale, ex Primavera Delfino, e Rizzo. Sulle fasce Garattoni e Costa, a metà campo Biarkason, Peterman e Schenetti. Davanti, come all'andata, Ogunzeie e Peralta. Tanti i precedenti all'Adriatico, l'ultimo a fine gennaio. Autentica debacle Bianchazzurra, 0-4 con i gol di Ogunzeie, il solito Schenetti, doppietta, bestia nera del Pescara, e Beretta. Negli anni, tante le vittorie del Pescara. In B, 15 ottobre 1989, l'11 di Reia, si impone 2-1 sul Foggia di Zeman. Marcatori, il compianto Bruno, Gasperini e Barone. 13 gennaio 1991, Satanelli battuti 2-0, nel primo tempo gioiello balistico di Alvise Zago. Mannini sventa questo colpo di testa di Bucaro, oggi vice di Zeman. Nella ripresa, il raddoppio protagonista Fioretti ha solo di grandissima qualità, compreso il diagonale, che infila il compianto Franco Mancini. 22 ottobre 1995, avvio shock del Pescara di Franco Oddo, con Sagra al primo e Bresciani al quinto. 2-0 per il Foggia di Delio Rossi, tuttavia rimontato e superato dai gol di Palladini, Federico Giampaolo e Andrea Carnevale. Match a dir poco emozionante. Debordante il successo ottenuto la stagione successiva. 6 ottobre 1996, sulla panchina del Pescara, proprio Delio Rossi, allievo e clone di Zeman, calcio meraviglioso. Giampaolo la sblocca, espulso, mezzanotti, reazione su Moscardi. Pescara sì in 10, ma lo stesso indemoniato. Arrivano altri tre gol, ancora Federico e Giampaolo, questa volta sul rigore, Renato Greco e Sasasullo. 8 marzo 1998, il Pescara di Adriano Buffoni si impone di misura, 1-0. Lancio di Moretti, assist sponda di Ottavio Palladini, rete di Fabrizio Cammarata. 27 agosto 2017, prima giornata di Serie B, il Pescara di Zeman cala il pocherissimo. Sugli scudi Stefano Pettinari, tripletta, mattatore, indiscusso, protagonista. Le altre due reti di Ben Ali e Leonardo Mancuso. Per il Foggia dell'ex Giovanni Stroppa, lo scadere, la rete della bandiera di Gerbo. Infine, 22 settembre 2018, vittoria di misura del Pescara di Pillon. Nel finale la decide Gravion, ispirato da Memushai. Tornando all'attualità, da una parte Zeman, dall'altra Rossi. Con o senza saluto, il boemo si esprime così. Io ci ho ripensato un po'. Visto che sono più grande, aspetterebbe a qualcun altro. Visto che sono più grande, aspetterebbe a qualcun altro.